Amici del Grand The Wrestling, abbiamo un problema, beh io ho più di uno purtroppo. Vabbè, qual è il problema Michele, abbiamo qui un regalo finalmente, un regalo, è mio, è mio, è mio. Vedete il problema è questo, questa è la Naf Edition, fammela per illustrare al pubblico. Postrala. È la Naf Edition di WWE 2K18, che è l'edizione speciale, quella con un sacco di contenuti. Ma cosa c'è dentro? Extra, c'è ad esempio l'action figure esclusiva di John Cena. La voglio, andrò a metterla in mia cameretta. C'è la foto esclusiva di John Cena firmata a mano da lui, cioè ci sono pezzi di merchandise, memorabilia, cioè robe straordinarie. Però è solo una, perché S4 e noi come facciamo a dividercela? Niente, non possiamo dividercelo e allora abbiamo escogitato qualcosa a malincuore. La regaleremo a uno o a una di voi. Che cosa dovete fare? Beh, dovete fare un video e raccontarci perché John Cena è così speciale per voi. In 60 secondi, non più di 60 secondi. Poi cosa dovete fare di questo video? Se state vedendo questa registrazione sulla pagina Facebook ufficiale del Frank, rispondete sotto postando il video per l'appunto che avete girato. Oppure, se state vedendo questo video sulla mia pagina YouTube, potete rispondere sul vostro canale con un video di replica inserendo nel titolo l'hashtag Brutalmente unico! Tutto attaccato, è brutalmente unico. È sempre quello che ho fatto dello spot. Esatto, noi andremo a vedere tutti i video, non è un concorso, ok? E alla fine, a nostro insindacabile giudizio, invieremo questo regalo, chi ci avrà colpito di più. Vieni a giocare con noi? Ah, non è ok, è il prezzo giusto, no? Va bene, ok. Allora aspettiamo i vostri video, ragazzi. Avete due settimane di tempo. Può essere un bel regalo di Natale, dai, dalla coppia, Franchini e Posa. Non ce n'è uno per uno, no, dobbiamo regalarlo. No, noi lo firmiamo anche noi, ti va? Ma va, secondo me no. Va bene, ok, aspettiamo i vostri video. Ciao.